Pompei è viva e vederla di notte al chiaro di lune è ancora più affascinante. Il 17 e il 18 agosto Campania Cost to Cost propone un'esperienza unica e suggestiva in cui il visitatore sarà guidato da narrazioni sensoriali e letture lungo il percorso da Porta Marina al Foro. Come arrivare da Napoli, circonvesuviana e salire su un qualsiasi treno della linea Napoli-Sorrento, la fermata a cui scendere è quella di Pompei Scavi. In bus, sempre dalla stazione centrale di Napoli, le linee Sita e WCSTP. In auto, seguire l'autostrada 3 Napoli-Salerno e prendere l'uscita a Pompei Ovest. Puntuale, come ogni anno, nello splendido borgo di Pratella, ritorna Bongo Borgo, il festival delle percussioni, arrivato alla sua quinta edizione e che si terrà il 21 e il 22 luglio. Come arrivare a Pratella e in auto da Napoli, imboccare l'autostrada 1 verso Caserta, prendere l'uscita a Cajanello e successivamente Teano, continuare poi sulla strada provinciale 329. Da Caserta il treno regionale e poi l'autobus CLP numero 18. Il Napoli Film Festival presenta con il patrocinio del comune di Morra de Santis la quinta edizione della rassegna cinema al castello, che avrà luogo nel cortile del castello Bion di Morra il 18 e il 19 agosto. La manifestazione giunta alla sua quinta edizione consente anche in alta ripinia di assistere alla proiezione di film particolari che non hanno avuto grande diffusione in zona. Da Napoli in auto, autostrada 16, uscita a Vellino Est, strada statale 7 o Fantina Bis, direzione Calitri, uscita a Morra de Santis. In autobus, bus air da Napoli per Avellino, con coincidenze per Morra Scalo. Un'emozionante esperienza sensoriale tale strada e i vicoli di uno splendido borgo antico, tra costumi d'epoca, cortei, mangiafuoco, sbandieratori, arcieri e cavalieri, poter gustare inoltre i piatti locali. Tutto questo è il Faicchio Medevalia, dal 23 al 26 agosto a Faicchio. Come arrivare a Faicchio? A 1 uscita al casello di Cajanello, una volta usciti al casello Caserta Sud, è possibile proseguire in direzione Valle di Maddaluni-Ducenta, sino alla località Cantinella, dove si può imboccare la strada Scorrimento Veloce-Fondo Valle Isclero e continuare direttamente alla sua strada Cajanello-Telese-Benevento, proseguendo in direzione Telese-Terme-Benevento, per poi uscire a San Salvatore-Telesino e seguire le indicazioni locali. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Telese-Terme-Cerrito-Sannita, sulla linea Bari-Foggia-Napoli. Il comune è raggiungibile anche mediante autobus di autolinee private, sulla linea Cerrito-Telese-Benevento-Napoli. Quarta edizione della festa del vitello al burnino e dell'olio d'oliva, in programma Sant'Angelo a Fasanella, Borgo Cilentano, in provincia di Salerno. Sino a domenica 19 agosto sarà possibile degustare alcuni dei prodotti tipici della zona e assisterà a concerti di famose band. In auto da Napoli, proseguire sulla train Napoli-Salerno in direzione sud, per Castelcivita e Ottati. In treno linea regionale per strada Iardini. In treno linea regionale per strada Iardini.